Ascish nascosto in bagno. La questura di Monza dispone la chiusura temporanea di un locale del centro frequentato da pregiudicati per spaccio e già destinatario di varie sanzioni amministrative. Mercoledì mattina il provvedimento, dopo che il 13 gennaio, in tarda serata, gli agenti durante un controllo avevano trovato nel bagno, nascosto dietro un mobiletto, quasi 27 grammi di Ascish. Lo stesso giorno, peraltro, alcuni frequentatori del locale hanno sporto denuncia per lesioni colpose. Gli avventori hanno riferito alle forze dell'ordine che il 10 gennaio si erano feriti all'interno del locale a causa della caduta accidentale di un grande specchio, riportando lesioni profonde. Agli operatori del 118 intervenuti, i gestori avevano raccontato che le ferite erano dovute a una precedente lite. Successivi controlli hanno fatto emergere, riferisce la questura, che il locale ritrovo di persone pericolose, pregiudicati, legati al mondo dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Oltretutto ci sono anche le sanzioni amministrative, per mancata esposizione degli orari di apertura, per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione e per la musica ad alto volume anche all'esterno del locale. Alla luce di tutto ciò, questore di Monza, Marco Dorisio, per tutelare sicurezza e ordine pubblico, ne ha disposto la chiusura per 30 giorni.